Soave sia il vento è il titolo della prima edizione del Festival Internazionale della Musica Antica, ideato dalla Fondazione Pietà dei Turchini, che per otto fine settimana, dal 22 novembre al 14 febbraio, porterà i napoletani non solo alla scoperta della musica europea del 600 e del 700. Concerti, mostre d'arte, performance teatrali, incontri e visite guidate attraverso itinerari d'arte tematici e iniziative per i più piccoli faranno da cornici al Festival. L'evento è stato presentato dal direttore del Centro di Musica Antica e Pietà dei Turchini, Federica Castaldo, nel corso di una conferenza stampa nella chiesa di San Rocco, alla riviera di Chiaia. Musica antica si intende quella musica composta dal Medioevo fino agli albori dell'Ottocento, ma soprattutto eseguita con una tecnica particolare, ovvero con una prassi esecutiva che rispetta filologicamente nella cordatura, nell'esecuzione, nella lettura della partitura, quelli che erano i dettami seguiti all'epoca.